Buonasera a tutti, bentrovati al nostro consueto momento di formazione del lunedì sera, momento che questa sera ho il piacere di presentare insieme a una figura importante per il programma calcistico italiano, sia dal punto di vista prettamente legato al calcio, ma soprattutto quello che dico sempre io è legato alla formazione di tanti allenatori, posso dire di centinaia di allenatori. Questa sera con noi c'è Massimo De Paoli. Buonasera Massimo, ciao. Buonasera a tutti, grazie. Massimo, come sai questa serata è l'inizio della tre giorni di formazione che Cochise ha il piacere di organizzare insieme a Formazione in Campo e Formazione in Campo fra l'altro questa sera è online con i suoi canali, con i suoi allenatori che ascolteranno la live e Formazione in Campo è l'organizzatrice della scuola allenatori di Massimo De Paoli. Come dicevo il 23, 24, 25 di giugno venerdì sera, sabato e domenica tutto il giorno ci sarà questa tre giorni di formazione a Capriolo, Brescia con Massimo De Paoli in campo per una parte sia legata all'aspetto formativo e pratico che anche poi la parte teorica, quindi la parte di presentazione, di spiegazione di quello che vedremo. Questa sera, adesso lascio subito la parola a Massimo, questa sera introdurremo quella che è la parte tecnica della tre giorni in questa Masterclass. Io Massimo ti lascio la parola e ti ringrazio ancora per essere qui con noi. Ti ringrazio e saluto ancora tutti i presenti e li ringrazio. Io credo che in tre giorni alternando il lavoro di campo con il lavoro in aula sia possibile fare un buon lavoro. Nello specifico credo che i livelli sui quali mi interesserebbe interagire con i partecipanti sono sicuramente tre. Un primo livello che è quello del sapere, io è da tempo che dico che per allenare o per giocare a calcio bisogna studiare e non lo dico in maniera provocatoria, lo dico perché il carico cognitivo e le conoscenze che i giocatori, ma non solo i top player o i top manager, cioè anche nel calcio provinciale, regionale, il livello di conoscenza acquisito da chi partecipa ai vari campionati è sempre più alto. Per cui il sapere e il sapere selezionato diventa importante. E in questi tre giorni questo momento sarà il momento dell'aula che potrebbe essere posto between tra campo campo in maniera tale da alternare una fase pratica a una fase di riflessione, ma potrebbe anche anticipare la fase pratica o vedere a questo momento come posticipato. Io credo che in tre giorni ci possano fare tutte e tre queste situazioni, cioè parlare del sapere e poi cercare di andare a declinare in campo queste conoscenze o comunque riconoscerle, oppure cominciare a lavorare senza aver fatto una riflessione, fare una riflessione e tornare in campo, oppure lavorare in campo e ex post fare una riflessione. Credo che tutte e tre queste strategie siano abbastanza importanti e praticabili. su obiettivi minimi. Il secondo aspetto è quello che riguarda il fare. Ecco, il fare è chiaro che, come diceva Sacchi, per fare il fantino non deve aver fatto il cavallo necessariamente, ma il fare a cui mi riferisco è un'esperienza che tutti i mister dovrebbero fare relativa all'aspetto coordinativo motorio e all'aspetto tecnico. Qui non mi sto riferendo né alla sfera legata tanto alla tattica individuale né alla tattica collettiva. E quindi in quei tre giorni mi piacerebbe far vivere a chi partecipa l'esperienza di provare a lavorare su alcune catene che riguardano le attività, diciamo, coordinativo motorie e le attività invece più tecniche facendo queste cose e provando a vedere come queste cose cambino completamente, la difficoltà del fare cambia completamente al variare di spazi e di tempo. che poi è una cosa che se la vivi in prima persona ti dà la possibilità poi di programmare meglio o di riconoscere queste cose negli altri. Il terzo aspetto, il terzo aspetto è forse quello più importante perché è quello metacognitivo per un allenatore che è il saper far fare. E allora mi piacerebbe durante questi tre giorni formare delle sorte di working group dove, un po' come faccio all'università con gli studenti, uno studente poi può essere coinvolto come giocatore può essere coinvolto come osservatore quindi prendere appunti ma può anche essere coinvolto come allenatore o colui che deve coordinare gli altri e decidere cosa fare. e quindi o lavorando a specchio con me o lavorando su slot di 3-5 minuti mi piacerebbe effettuare queste rotazioni anche per vedere lo stile personale di ognuno. Il metodo che da tanti anni cerco di condividere con parecchia gente ha una caratteristica La caratteristica è che quello che si va a fare in campo non è definito e quindi il metodo è un metodo metacognitivo che abitua gli individui a stabilire delle relazioni a individuare le tipologie di attività a riflettere sugli spazi, sui tempi, sulle strategie, sui principi ma non prevede delle codifiche che si trasmettono in sintesi non viene detto tutto quello che bisogna fare questo lo rende magari poco intuitivo poco rassicurante perché per molta gente è molto importante avere delle risposte io credo a prescindere dal frequentare o meno questi tre giorni io non ho mai nella mia vita non lo farò mai non mi sono mai venduto alla parte diciamo che poi è importante ma non ho mai lavorato per convincere le persone obbligarle o quant'altro ho sempre cercato di accettare e lo faccio anche nel mio lavoro di docente universitario le opinioni contrarie o se uno non è pronto è meglio che non faccia questa esperienza essere pronti vuol dire avere l'idea che le risposte che state cercando sono già dentro di voi questa è la prima cosa e in secondo luogo che l'interazione con altri allenatori perché questa penso sia la cosa più importante di queste full immersion il confronto non tanto con chi coordina in questo caso il sottoscritto ma il confronto con degli interpare con altri mister che magari hanno la stessa realtà vostre e dai quali potete imparare confrontarvi oppure dire vabbè ma anche io allora ci posso stare all'interno del gruppo ecco io credo che questa sia la cosa la cosa più importante e poi l'aspetto pratico cioè io credo che in tre giorni si possa fare come quando si va in ritiro o si fanno le cose assieme si possa vincere la barriera del timore che magari in questi anni di covid il incontrarsi in remoto crea io vedo anche quei miei studenti insomma manca il feedback certe volte manca il feedback certe volte non hai comunque la presenza tutto questo crea comunque che se ne dica una distanza ecco stare assieme vuol dire anche vivere dei momenti che non devono essere necessariamente sempre calcistici secondo me è molto importante condividere e capire che queste cose si possono fare si possono vivere perché molti allenatori in nome di una perfezione e magari di una bassa autostima enfatizzano le esperienze altrui enfatizzano i propri errori enfatizzano o minimizzano le proprie capacità ecco in questi tre giorni mi piacerebbe anche fare una cosa che invecchiando mi piace sempre più fare cioè riconoscere il talento negli altri evidenziarlo ma non in maniera demagogica non per qualche secondo fine semplicemente perché perché magari in base ai tanti errori che ho fatto io dico sempre che sicuramente sono molto esperto nel fare errori e quindi quando uno ha fatto tanti errori quello che può fare è avvertire i più giovani e dire guarda che quella strada lì magari è una strada che non porta da nessuna parte o quant'altro quindi questi tre giorni credo che saranno e dovranno avere un taglio di questo genere non c'è nessuno che pontifica niente si è assieme però è chiaro parlo per esempio con i ragazzi che stanno frequentando con i quali ho interagito quest'anno in remoto soprattutto è chiaro che noi partiamo con la codificazione di alcune attività adesso questa non è la sede per entrare nel merito che richiede comunque un po' di impegno perché bisogna usare un codice linguistico di un certo tipo bisogna classificare le cose bisogna rispettare alcuni principi io credo che questa disciplina che questo lavoro poi torni in campo io credo quando allenavo a livello professionistico ho scelto ho scelto di scrivere libri ecco scrivere libri credo che dopo il suicidio diretto sia una delle forme di autolesionismo scrivere un libro quando va bene ricevi delle critiche ma anche critiche che vanno al di là dei contenuti ecco scrive per farsi vedere ecco scrive qui però io vi spiego perché ho scritto dei libri ma anche quando giocavo perché per me scrivere dover fare un articolo su una rivista piuttosto che scrivere un libro era un modo per per mettere su carta quello che stavo facendo ed era fondamentale in maniera egoistica è come tenere un diario di cantiere e ho sempre utilizzato le squadre pensando che fossero dei laboratori e quindi pensando che insieme ai giocatori era possibile ogni volta scoprire il limite o scoprire forme nuove di interazione e al di là poi dei fattori tecnico tattici specifici questa era la cosa che mi interessava e quindi per me diventava fondamentale vivere assieme un'idea di calcio o cercare di insieme di trovare delle risposte per cui io partivo sempre in maniera dicotomica da due punti uno era il mio pensiero quello che io pensavo dovesse essere l'allenamento piuttosto che lo sviluppo di un'azione e quant'altro e l'altro l'osservazione maniacale dei giocatori ecco questa cosa in quei tre giorni la farò sugli allenatori soprattutto se ci saranno gli allenatori che ho già apprezzato attraverso i loro lavori e la loro interazione in remoto per cui questa è una cosa che mi fa crescere molto e poi puntare puntare su questi allenatori cercando di evidenziare i punti di forza che saranno sicuramente tantissimi o magari i punti di criticità che possono esistere ecco in tre giorni io credo che se sono intensi è come quando partecipo ai seminari in tre giorni non sono tre giorni sono molti di più è chiaro che a un convegno a un seminario che sono molto faticosi devi essere in grado che magari durano 8-10 ore dove devi ascoltare devi prendere appunti e poi arrivi la sera che magari sei stanchissimo poi intervieni tu e gli altri magari ti restituiscono il piacere dell'ascolto però questa è l'esperienza perché lo dico ai mister cioè io conosco da tanti anni Alessandro conosco Matteo Camoni conosco anche molti allenatori che magari sono in questo momento collegati e quindi li ho visti li ho visti li ho visti crescere ho visto come come sono cambiati in senso positivo e penso che questo cambiamento sia anche fatto sia dato al fatto che nella fattispecie questi due che ho denominato che ho nominato sono sempre all'interno del lavoro di gruppo lo fanno perché poi magari organizzano che poi sia a Credaro a Capriolo da qualche altra parte in remoto però vuol dire mettersi in gioco è una forma molto intelligente per per creare per creare dei confronti e per crescere ecco perché dico che se c'è l'incontro secco è un conto devi cercare di stimolare di incuriosire con tre giorni si può cominciare a lavorare nello specifico per avviarmi diciamo a una fase non dico conclusiva ma perché poi magari Alessandro vuoi intervenire con delle domande o o aprire anche a non so se possono interagire chi sta frequentando se no diventa un monologo sterile la cosa che voglio fare è poi far capire bene il linguaggio perché perché credo che ci siano tante posizioni dove o si dice vabbè il linguaggio non c'entra col calcio una cosa teorica non c'entra niente oppure si semplifica o simitizza il linguaggio stesso ecco il linguaggio è uno strumento vengo a precisare ma se uno usa bene il linguaggio e in quei tre giorni vi garantisco che io cercherò di farlo capire bene bene alle persone che che parteciperanno io ho fatto e Alessandro lo sa non ditemi il giorno che non me lo ricordo però pochissimo tempo fa un incontro con gli allenatori in campo con dei bambini del 2012 dimmi se dico bene Alessandro Castagnone della Pasquale perfetto ecco quindi ho ho lavorato e in quel contesto il ho provato a fare delle esercitazioni assolutamente senza il linguaggio e poi ho utilizzato certe volte alcune alcune parole chiave o comunque perché quando dico linguaggio non vuol dire il parlare normale vuol dire utilizzare delle parole che per il gruppo che sta utilizzando quelle parole assumono un significato particolare sono comunque associate o all'apprendimento del gesto coordinativo o all'apprendimento del gesto tecnico o alcune volte anche allo sviluppo del pensiero il confronto è micidiale ma proprio just in time voi vedete come il linguaggio usato in un certo modo aiuta però non vorrei farlo stregone non è che col linguaggio uno diventa giocatore o vinci le partite o diventi un migliore allenatore se sei scarso sarai scarso utilizzi è come un progettista se usa un software parametrico un computer non è che diventa migliore come progettista però aiuta cioè se tu sai usare nuove tecnologie questo ti aiuta a rappresentare meglio le tue idee se poi non hai idee puoi avere anche il computer è scarso rimani questo per specificare ma il linguaggio è un come dire è un facilitatore è chiaro però che bisogna saperlo utilizzare bisogna saper trasformare un'azione un gesto in parole e quindi questo magari già lo fate ecco però va fatto in maniera sistemica e sistematica e su quello poi ognuno costruisce il proprio linguaggio mi spiego tutti quanti noi non ricordiamo adesso non riflettiamo sufficienza su come abbiamo acquisito come abbiamo imparato a parlare e a scrivere e so che siete in difficoltà perché perché non ci pensiamo lo diamo per scontato noi diamo per scontato che siamo nati così come siamo adesso non è così se voi ci riflettete un attimo poi magari la memoria manca ma quando una persona nasce non mi sembra di riconoscere tranne qualche fenomeno che sappia già scrivere non mi sembra che uno appena nato sia in grado di fare 9x981 non mi sembra che sia in grado già di conoscere le forme verbali ecco se io vi chiedessi dove una persona impara a far di conto e a utilizzare il linguaggio guardate che sto parlando di due cose fondamentali molto ma molto più importanti del del giocare a calcio lei impara nei primi anni di vita e in quei primi anni di vita il linguaggio viene assimilato e ci sono non a caso in Italia i migliori docenti delle primarie in Europa quantomeno i migliori noi abbiamo i migliori maestri che utilizzano delle metodologie la domanda che faccio sempre io è questa ma noi qualche volta abbiamo ci siamo chiesti che metodologie utilizzano questi maestri e queste maestre bravissimi abbiamo mai chiesto magari sì perché perché magari poi uno ha un figlio e ho torto il collo ci batte dentro la testa oppure ha la moglie oppure lui stesso insegna e allora chiedo venia a questi che sanno benissimo quello che sto dicendo ma molti non fanno questa riflessione cioè non mettono in parallelo l'età e il vissuto del bambino che stiamo allenando con il parallelo scolastico e questa e questo mancato parallelismo da parte dell'allenatore è un peccato perché perché quando fate lo staff e ognuno di noi fa lo staff magari io ho il secondo magari ho l'allenatore dei portieri magari sono da solo magari ecco metteteci anche il maestro soprattutto se fate i piccoli perché perché il maestro è un vostro collaboratore e lui i ragazzi da lui vanno in palestra e lui allena che cosa beh allena magari non il corpo perché mi sembra che di attività motoria alle elementari purtroppo se ne fa un po' poca forse si fa un'ora e spesso magari l'insegnante di latino di musica che ti fa quell'ora ma questo è un altro discorso però allena la mente e allora se io faccio fatica a far capire al mio giocatore dove stare in campo e invece quel maestro riesce a far capire benissimo dove sono le Alpi perché spesso i ragazzi magari mi dicono che il fiume che passa per Roma è il Po però vabbè al di là di quello se invece riescono a capire che il fiume è il Tevero oppure riescono a capire com'è l'Europa oppure questo è molto importante perché vuol dire che quel quel maestro quella maestra è entrato dentro il pensiero e il modo di pensare di quel ragazzo e gli ha consentito di localizzare le cose guardate che sapersi mettere in campo è la stessa cosa a livello metacognitivo solo che al posto delle Alpi e al posto di Roma e al posto dei fiumi e al posto delle strade ci sono le linee laterali l'area di rigore il calcio d'angolo il portiere l'esterno l'interno poi ognuno usa il gergo che vuole perché se usi stopper sei antico è inutile e se usi centrale sei il più grave del mondo anche qui sarebbe da spendere un po' di c'è tanta demagogia ecco e poi dopo viviamo un po' di queste cose qui di mode e non riusciamo più a cogliere qual è il principio il pensiero ecco perché dico che in quei tre giorni mi piacerebbe magari mentre mangiamo magari mentre non necessariamente in campo però fare qualche riflessione se uno ha intenzione su questi argomenti perché diventano abbastanza importanti adesso sono le 21.31 quindi sui tempi che mi hai dato Ale ti lascio la parola o se vuoi farmi altre domande sono arrivate tantissime domande oltre che saluti complimenti veramente una marea comincio con la prima domanda e poi proseguiamo allora Enzo Cuppone scrive il mister De Paoli se non ho capito male userà il metodo induttivo lo usa anche quando allena o lo ritiene utilizzabile solo con platè di elevata cultura sì allora intanto saluto Enzo lo ringrazio per la domanda il metodo ha ragione è induttivo secondo me non c'è bisogno di avere un'elevata cultura bisogna avere tanta passione cioè quando quando le persone fanno le cose con entusiasmo questo credo qualsiasi attività però voglio che anche voi mi diciate cosa ne pensate secondo me la cosa più importante è la passione perché tu vedi quando una persona sta facendo un lavoro sta facendo qualsiasi cosa vedi se lo fa con passione quando c'è la passione automaticamente tutto il resto arriva anche quando sbagli perché è una persona appassionata non demorde una persona appassionata si diverte e ha questa motivazione forte è la motivazione dei bambini io l'altro giorno ho visto dei 2016 2015 e 15 14 vedevo questi bambini che a un certo punto era un torneo e sotto un pallone bambini di squadre diverse si divertivano un sacco da soli a giocare e poi guardavo il campo e c'era questa divisione queste tattiche questa cosa per prevalere e mi piaceva di più sinceramente perché dicevo e vedevo tutti questi genitori queste mamme che fanno il papà che fanno il sacrificio a portare e non tutti credo siano appassionati di calcio ma amano i figli ecco quello quei bambini vanno per passione non c'è altra cosa e rischio di essere demagogico però è molto importante quindi non è la cultura che conta è avere quella passione cioè gli allenatori che ci sono qua stasera sono appassionati quelli che verranno ma anche quelli che non verranno perché non voglio adesso fare promotion ma quelli che verranno tre giorni dove ci troveremo ma mi dite voi che non hanno un secondo fine se non quello di condividere e di migliorare e di vivere delle esperienze per per la propria passione per i bambini che allenano per ecco perché io sono sempre onorato e spero sempre di essere lucido e all'altezza di queste persone sento molto questa responsabilità perché è tantissimi anni che io faccio questi incontri e tanta gente mi dice ma perché li fai perché fai quegli incontri perché io ho bisogno di quegli incontri cioè per me sono molto più importanti delle società di serie A delle federazioni ma molto più importanti vedere quelle persone poiché siano tre cinque cento mille non cambia anzi forse se sono tantissime mi sfugge la possibilità di un'interazione è un po' come con gli studenti capite c'è sempre un numero per chi di voi insegna lo sa cioè c'è sempre un numero oltre il quale comunichi ma la comunicazione diventa indiretta è come a livello di prossemica ecco a me piace ancora molto lavorare in presenza dopo tre anni di remoto credetemi ho sofferto tantissimo cioè con l'università praticamente facevo dodici ore senza vedere le persone mi sembrava di impazzire cioè parlavo da solo sapete quando parli allo spec mi avranno ascoltato si saranno interessati e ho visto questi ragazzi adesso parlo dei ragazzi di scienza motore di ingegneria che sono tanti con i quali interagisco bravissimi li ho visti sempre più spenti cazzo sempre più spenti poi torni al custo torni al campo torni in laboratorio cominciano a parlare tra di loro e sono giovani i tre giorni sono quella roba lì è come quando io dico sempre possiamo fare degli incontri perché sono comodi dal punto di vista logistico eccetera è remoto ma poi ci deve essere almeno uno o due volte in cui ti trovi in campo e capisci se quella persona che ti sta parlando è un barla fuse o è uno che invece fa qualcosa con i bambini ecco perché vi dicevo perché poi tu ti devi confrontare con i bambini e col campo è fondamentale il campo non c'è risultato chiaro con Enzo che ringrazio che ringrazio ti giro un'altra domanda di Giovanni Alaimo che ti chiede misteri lavorato sempre nei settori giovanili migliorando tantissimi giocatori portandoli nel calcio da conta come mai un mister come lei non ha mai avuto il desiderio o l'obiettivo di allenare nei grandi grazie ma ringrazio di questa domanda perché io ho avuto delle proposte importanti da Mimo Di Carlo in Lecce le ho rifiutate perché non credo non credo di avere le qualità per fare l'allenatore dei grandi credo di essere un discreto di essere stato un discreto anche un buon allenatore dai se non voglio essere falso modesto un buon allenatore di settore giornalista sì per allenare i grandi io non potevo ero troppo di fatto ho declinato adesso non voglio entrare nel particolare ma ho declinato diciamo dopo averci pensato quindi le offerte in generale l'offerta era abbastanza importante equivaleva non so a vent'anni di università o quant'altro per cui uno ci pensa ci pensa e poi avrebbe dato una risonanza rispetto al lavoro anonimo che faccio adesso ma che mi piace tantissimo e che meno male che poi ho fatto quella scelta però ci ho pensato poi però ho pensato alle mie caratteristiche io credo molto nella didattica e nella crescita del e quindi sul lavoro sul campo fare l'allenatore di prime squadre è in parte è questo è in parte questo un allenatore di prima squadra deve deve stare dentro i compromessi e lo sto dicendo in senso alto e deve saperli gestire deve saper comunicare con la stampa con la dirigenza deve saper interagire con giocatori che hanno un profilo altissimo e io non non penso di avere queste qualità e questo livello di qualità per cui ho sempre declinato con i giovani riesco ad avere un impatto sono riuscito ad avere un impatto e una credibilità che con i grandi non avrei avuto perché poi non sono neanche su certe cose molto elastico e io invece ho visto i grandi allenatori li vedo tuttora scusate se faccio una citazione ma Carlo Ancelotti credo che sia un allenatore che è ancora troppo poco valutato troppo poco valutato perché sembra che lui a differenza di club di Guardiola che è un altro mito perché magari ha un modo diverso di organizzare gli allenamenti ha un modo diverso di comunicare eccetera sembra che lui sia in panchina così e non viene colto invece non so come spiegarlo cioè uno dei più grandi di tutti i tempi cioè ecco saper gestire a quel livello poi sapete al bar qua tra noi possiamo dire tutti che lo sappiamo fare no non è così non è così io almeno non penso ma neanche minimamente per chiudere su Carletto quando uno va a Real Madrid e tutti a livello mondiale dicono che tutti sono cotti e bisogna sapete quando dicono bisogna riaprire un ciclo e lui tiene quella squadra lì manda a casa gente come Bale l'altro non me lo ricordo che giocavano al posto di Vinicius comincia a puntare su Camavinga su Vinicius eccetera recupera Benzema Modric Cross e vince la Champions League ragazzi ma di che cosa stiamo parlando e acquista perché lo fa in una maniera fantastica cioè lo fa facendosi voler bene dei giocatori e quindi quella roba lì credo che la possono fare in pochi e ora se sei così ha senso stare lì per andare su una panchina qualche mese pensateci bene tanta gente a fare queste esperienze che potrebbero risparmiarsi perché uno deve sapersi valutare secondo me ti giro la domanda di Mauro Infante che ti saluta è un grande saluto anche Mauro e scrive io so che il linguaggio aiuta nel gioco di tempi e spazi sì sì lui lo sa perché ha studiato molto Mauro ha studiato molto ma poi è anche ha questa caratteristica partenopea per cui ha tanta fantasia tanta passione Mauro ha tanta passione rispetto a quello che dicevo prima ha fatto tanti sacrifici ha lavorato tantissimo su se stesso e adesso credo che stia raccogliendosi mi auguro che stia raccogliendo i frutti del suo sforzo della sua capacità è vero il linguaggio aiuta tantissimo per quanto riguarda gli spazi e i tempi ma per farvi un esempio perché sennò pensate allo sci mi dite perché a un certo punto lo sciatore o chi è in parte cominciano a fare o po 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 cioè giusto non credo che ci sia un allenatore che ha inventato questa cosa perché tamberi piuttosto che un saltatore in alto a un certo punto non so se avete visto quando chiamano un battito di mani che è sincopato non è l'applauso è un battito no che ti dà un ritmo ecco perché perché questa cosa qui diventa un entra in frequenza come se fosse un movimento sussultorio no di un di un di un effetto sismico entra in frequenza e comincia a entrare dentro di noi perché la musica perché i brasiliani fanno il passo di samba dopo aver fatto gol non per farsi vedere perché questo rapporto ma l'avete vissuto è impossibile che nessuno di voi abbia vissuto in certi momenti della sua vita la forza del di un qualche cosa che ti entra dentro e quello è lo spazio del tempo perché la musica la corda vibrante se qualcuno suona sa che viene poi pizzicata con dei rapporti quindi il diapente piuttosto che il tetrassero non sono altro che andare a toccare su una chitarra ci sono di solito dei tondi bianchi quindi se tu vai a premere la corda vibrante in un punto preciso ottieni un suono quello è spazio e tempo perché perché in quella maniera tu crei musica è la stessa cosa il gioco del calcio è il tempo che determina tempo e spazio ma soprattutto il tempo al punto che quando in quei tre giorni che faremo io cercherò di far capire cosa vuol dire certe volte lo faccio con delle rullate o delle fino a quando il corpo mi consentirà di variare quando vedrò che quando cerco di variare la velocità o la frequenza comincio ad avere sintomi negativi abbandonerò e lo dirò a voce ma adesso riesco ancora avendo una discreta tecnica a avete presente quando rulli la palla e la porti lo faccio lentamente poi lo faccio meglio poi lo faccio molto veloce quando lo faccio molto veloce molti ragazzi fanno fatica non ce la fanno perché perché l'aumento di velocità e l'aumento di frequenza richiede qualità quindi non bisogna vendere fumo io non posso dirti guarda che lavorando tu arriverai a quella velocità perché perché tu arriverai a farlo ma a quella velocità non lo so io potrei allenarmi anche 24 ore al giorno ma non riuscirei mai ad arrivare a fare a spostare la palla con la velocità con la quale l'ha sposta un bappé punto so che è ovvio questo perché ho citato un bappé ma certe volte con noi stessi con i nostri figli con i nostri giocatori noi non capiamo questo e quindi creiamo che cosa dei confronti che ci mettono in difficoltà perché sono come dei problemi indeterminati quando io faccio quando io dico ai miei giocatori oh e faccio vedere come gioco il Barcellona ma voi ci pensate il paragone che stiamo facendo o no perché è importante questo allora voi dite ma io non intendo giocare così intendo gli spostamenti attenzione attenzione adesso non voglio anticipare troppo l'altri giorni ma perché perché se tu fai gli spostamenti di Barcellona ma hai i tempi di Buster Keaton sai il cinema muto cioè che vai a tre all'ora no allora a quel punto c'è qualcosa che non funziona ecco perché dico o prendiamo in maniera coerente un modello e lo cerchiamo di perseguirlo di imitarlo e quant'altro oppure dobbiamo capire i principi e declinarli però sugli spazi e tempi che ha la nostra squadra o che noi abbiamo poi posso con l'allenamento cercare di migliorarle però per dire a Mauro ha centrato una funzione del linguaggio è quella di aumentare la comprensione degli spazi e tempi e la comprensione degli spazi e tempi è un modo per velocizzare il gioco allora ti giro un'altra domanda di Enzo Cuppone si che dice secondo me un buon allenatore deve essere un buon comunicatore che significa creare un buon canale trasmissivo cioè significa stare allo stesso livello dell'interlocutore faccio i complimenti sono pienamente d'accordo pienamente d'accordo credo che questa sia la la capacità dei grandissimi allenatori penso a Berzot penso a Boscov penso a Cerotti l'ho già citato prima ma sicuramente in questo caso Kropp sicuramente cioè sono anche Mourinho insomma sono tutti allenatori che poi possono risultare simpatici o antipatici ai tifosi ma voi guardate i giocatori i giocatori li amano perché perché hanno strategie hanno hanno strategie nel caso di Mourinho credo proprio che si sia anche formato io sono sicuro che lui ha fatto dei corsi di PNL comunque perché è troppo preciso Mourinho proprio nella comunicazione è devastante è devastante gli altri sono più empatici però mi ricordo anche Cappello anche Celotti non so se vi ricordate quando erano se non vorrei sbagliare ma mi sembra la Mediolanum hanno fatto soprattutto Cappello fece aiutatemi ma era alla primavera mi sembra del Milan lui poi ha fatto degli anni alla Mediolanum non riesco a capire non ricordo più con che ruolo ma non c'entrava il calcio poi Sacchi ha smesso e lui andò a prendere la squadra che sembrava una squadra morta e l'ha fatta vincere più di Sacchi ma l'ha fatta vincere più di Sacchi non col suo sapere perché è stato un grande giocatore Cappello adesso per i più giovani lo dico Cappello è stato un grande giocatore deve essere stato uno dei pochi a far gol a Wembley contro l'Inghilterra quella nazionale ma al di là di quello era un ottimo centrocampista testa alta ma non lui ha sfruttato tutte le competenze che ha acquisito lavorando la Mediolanum ecco perché dico che Mourinho quando dice chi sa solo di calcio non sa di calcio è veramente eccezionale perché è così ecco perché dico partiamo da delle cose che sembrano distanti ma in realtà poi ti possono aiutare perché se tu sai gestire bene e uno dice ma io sono timido ma quando io parlo del linguaggio non intendo la comunicazione quella è un'altra cosa io intendo una riflessione proprio sulla natura del linguaggio per darvi l'idea io sono talmente dentro questo tema che è un tema anche che affronto in architettura io ho due grandi passioni una era l'architettura e l'altra è il calcio e non a caso il dottorato di ricerca io l'ho fatto sugli ordini architettonici che sono un grande sistema linguistico l'ordine architettonico penso che sia in architettura il linguaggio più importante dell'Occidente ecco quindi la riflessione su quello per me va di pari passo con la riflessione al punto adesso qui lo dico a tutti alcuni forse lo sanno io ho fatto la tesi del la tesi di dottorato e la tesi di Coverciano dove ho preso in tutte e due situazioni la lode è un grande plagio è uguale cioè io ho preso la mia tesi dell'architettura del dottorato ho cambiato solo le parole mettete dove c'era colonna metti ho messo campo di calcio quant'altro ma è ma volutamente e mi sono scritto una raccomandata dove ammettevo che facevo questo plagio perché se qualcuno poi mi sapete che ci sono sempre quelli che vanno a vedere eccetera io dirò che è vero ma che è stata una scelta e non l'ho fatto per lavorare meno non so se anche perché mi sono plagiato quindi perché l'ho fatto perché io ho sempre detto da giovane adesso diciamo mi preoccupo meno di quello che dico io e mi interessa più quello che dico gli altri però da giovane io dicevo non c'è differenza fra l'architettura e il calcio e tutti mi dicevano che schile è mazzo e non c'è differenza perché io le affrontavo in maniera metacognitiva e per cui il modo col quale io analizzavo l'architettura era esattamente lo stesso col quale io analizzavo una partita di calcio e allora per me quel momento è stato molto importante perché ho detto se io riesco a passare bene un esame importante con delle persone diciamo degli esperti e dico le stesse cose non so se siete d'accordo beh allora è vero quello che sto dicendo cioè se io dico che l'architettura è uguale al calcio e faccio due tesi diciamo che vengono viste da persone esterne da me esperti e tutte e due mi dicono sì va bene adesso passi sì va bene passi e poi alla fine dico cazzo ma il lavoro è uguale al netto di qualche parola beh allora io ho dimostrato a me stesso che l'ipotesi mia era corretta questo per dirvi come sono filtrato io cioè nel senso questa cosa qui per me era importante e l'ho fatta cioè mi sono mi sono inventato questa cosa e da subito ci ho pensato quindi ho cercato di strutturare un due tesi che funzionassero nel calcio in architettura e ci sono riuscito perché ci sono riuscito perché ho lavorato sul linguaggio se no non ci sarei riuscito se avessi perché 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 il pallone è diverso dalla colonna non so se questo non c'è bisogno di essere se lo guardi così sì ma se guardi altre cose i sistemi con quali puoi associare queste cose beh allora le cose diventano uguali un'altra domanda per gli ultimi 15 minuti quindi ne sono arrivate tantissime cercherò un po' lungo cercherò di essere molto più breve adesso allora una domanda per mister De Paoli per quanto per quanto riguarda la formazione nei giovani calciatori le difficoltà a trovare talenti può essere dalla mancata formazione di strada circa otto ore di gioco per strada al giorno ora se va bene 4-5 ore a settimana grazie sì 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 e adesso non so come si chiama il mister ma ha ragione ha ragione ha ragione e questo è un grande problema però è una cosa che discutiamo anche a scienze motorie per esempio con i colleghi che dicono che le materie pratiche hanno poche ore e c'è bisogno di questo questa cosa non è sostituibile perché quando giochi e giochi soprattutto spensierato eccetera però sono le condizioni nuove quindi non dobbiamo fare l'errore di di arroccarci e trovare questo come alibi non so se mi spiego dobbiamo trovare altre modalità credo che lo sviluppo del pensiero sia fondamentale faccio un esempio con ingegneria così non c'entra il calcio un tempo si lavorava molto di più in studio si andava in cantiere c'era un'esperienza pratica che è un po' quella roba qui del calcio oggi un buon progettista deve lavorare con software parametrici e deve lavorare su degli algoritmi degli script vuol dire che non ha più davanti le fondazioni i pilastri le travi ma si trova davanti una stringa alfanumerica per darvi l'idea come se fosse 0 1 alfa beta 0 k virgola trattino e cose così oppure sul binario tanti 0 e tanti 1 messi 1 in parte all'altra un buon progettista oggi un buon ingegnere deve vedere l'architettura dentro quegli algoritmi non so se se mi sono spiegato ecco un buon giocatore oggi deve vedere il gioco non guardando la palla ma deve intuire e prevedere dei cambi strategici per cui attacca in un modo difende nell'altro lavora perché si dice preventiva provate a vedere il linguaggio preventiva prevenire vuol dire farlo prima se tu invece aspetti che una cosa accada infatti i giocatori cosa fanno partono quando parte il cross i grandi giocatori no guardate olan parte prima adesso non ho il tempo di far vedere i filmati i grandi giocatori partono prima e voi direte perché partono prima sono fortunati no perché hanno un modo di vedere che non corrisponde alla realtà e quindi intuiscono come un buon portiere vede la postura del corpo dice questa palla arriva bassa questa palla arriva alta e quindi prendono delle informazioni che non sono quelle che vedono tutti ecco perché poi si chiama sesto senso intuito io ho allenato cinque anni Andrea Pirlo Pirlo vedeva cose che noi umani non possiamo vedere per citare Blade Runner poi potevi dire alle orecchie sventola non ride mai ai piedi piatti quello che volete voi io ho sentito dire ad Andrea ogni cosa ogni cosa ve lo cito anche il papà di Monticelli che era un mio giocatore diceva che io facevo giocare Pirlo perché mi dava i soldi e io gli ho sempre detto al signor Monticelli guardi io non so come non farò niente per dimostrarle il contrario ma non è vero e mio figlio è come Baresi mi diceva Monticelli che spero che mi stia ascoltando adesso non mi sembra di aver visto negli annali del calcio il Monticelli che è un bravissimo ragazzo con un ragazzo normale e mi sembra che questo bambino qui abbia dimostrato questo Andrea Pirlo abbia dimostrato di essere un talento assoluto io non gli ho insegnato assolutamente niente ma lui mi ha insegnato e per quello che vi dico queste cose che senza coraggio e senza azioni extra logiche non riesci a trovare grande qualità è come quando non attacchi lo spazio è come quando non prendi un rischio ecco se noi continuiamo a giocare sicuri di non perdere la palla faremo un gioco bruttissimo non so come dirlo io quando vedo molto spesso allenare facciamo le giocate per non perdere la palla no bisogna giocare sapendo che la palla la puoi perdere e se la perdi devi riconquistarla veloce è proprio diverso il concetto e poi la devi perdere qualche volta e poi devi fargli uno contro uno e quindi tutte le strategie per dire la doppia eccetera dopo vengono ma dopo le squadre più forti al mondo sono quelle che hanno il maggior numero di giocatori che sull'uno contro uno fanno la differenza e non vi cito il Real Madrid vi cito l'Atalanta cioè l'Atalanta in questo caso scusatemi ma Gasperini è riuscito a trasformare una squadra di provincia e giocatori diciamolo dai non ha mai avuto i giocatori che hanno il mister che ho citato prima eppure per tanti anni per tanti anni e ancora adesso secondo me ha trasformato questi giocatori e c'è un'intervista se non vorrei dire non mi ricordo più se a Tebor o De Rune cioè di un giocatore e gli hanno chiesto ma cos'è che vi ha dato in più Gasperini e questo giocatore che non era né Zapata né Muriel né Papu Gomez ha detto ci ha fatto capire che ognuno di noi poteva fare l'uno contro uno poteva vincere il proprio contrasto e poteva fare gol e se voi guardate le statistiche l'Atalanta ha un numero impressionante di giocatori che arrivano a rete e quindi questo non lo fai con la tattica mi spiego questo lo fai perché trasformi ogni giocatore in un protagonista non ci sono i gregari ecco ecco perché quella separazione secondo me dolorosa ha dimostrato però che l'Atalanta non era solo Papu Gomez l'Atalanta non era solo il campione capite siamo un giocatore assoluto Gomez però se voi notate l'Atalanta è un po' di anni che vanno via quelli diciamo più bravi una cosa simile l'aveva già fatta Wenger all'Orsenal dove non vinceva mai la Premier ma arrivava sempre non so se vi ricordate i tempi di Henry i tempi di Fabregas perché dopo diventano bravi ma quando arrivavano lì Henry veniva dalla Juve e dicevano ma sì mica tanto bravo un po' come adesso non voglio fare il bar ma quando Salah arriva in Premier a Roma dicevano che non faceva gol oh di cosa stiamo parlando ha vinto la capocannoniera in Champions e ha vinto la capocannoniera in Premier il Salah come dicevano che Luis Enrique non era un allenatore ha fatto meglio di ha fatto meglio di Guardiola alla Barcellona vabbè scusami Ale ma ogni tanto mi piace fare un po' di bar no no benissimo allora Massimo Ricci che dice condivido pienamente quello che dice il mister e poi ti giro quest'altra domanda lo ringrazio mister meglio analitico e poi situazionale oppure situazionale e poi analitico tanto saluto saluto Vardaschi saluto Paolo è meglio ma lui secondo me lo sa perché come la penso io non c'è il meglio quello che è importante è saper lavorare in questa maniera capite quello che è importante io io posso avere un gruppo quando io ho allenato i 90 dell'Inter ho fatto quasi tutto analitico perché sfioravamo l'analfabetismo coordinativo motore era una squadra che vinceva tantissimo perché avevo una squadra di precoci io venivo dal Brescia ero abituato a altre cose e mi sono trovato in una grandissima società che poi mi ha dato il meglio del meglio e lo anticipo perché l'anno dopo io ho avuto una squadra tra le più forti in assoluto di tutti i tempi nel setto giorni siamo penso che abbia ancora i record imbattuti e che rimarranno imbattuti quindi non per lamentarmi ma il primo anno io avevo facevo fatica non riuscivo andavo a casa non riuscivo ve lo giuro a vedere tre passaggi di fila tre non ce la facevo e lì ho lavorato tantissimo sull'analitico e abbiamo in campionato abbiamo vinto abbiamo fatto il miglior attacco miglior difesa però non sono riuscito a a sviluppare gioco ad arrivare a una forma globale importante il secondo anno ho lavorato pochissimo sull'analitico e tantissimo sulle forme situazionali globali perché perché avevo dei giocatori che avevano dei prerequisiti molto ma molto importanti e allora quello che io dico non va bene la ricetta parte in un modo parte in un altro è come quando voi iniziate l'azione e dite ai vostri giocatori allora adesso loro si alzano e voi vi allargate e tu giochi la palla laterale non va bene anche quando va bene perché perché la prima cosa che devi dire a un giocatore è prima di tutto guardi quello che fanno gli avversari vedi quali sono gli spazi e le situazioni di gioco migliori e poi decidi come giocare che potrebbe anche essere quella giocata lì ma non quella giocata lì per forza perché questo impedisce che cosa la lettura e quindi qui meglio analitico e situazionale o situazionale e poi analitico ma io non dirò mai che è meglio uno o l'altro perché la risposta è dipende ci sono delle situazioni in cui è meglio l'uno e delle situazioni in cui è meglio l'altro quindi il problema non è tanto stabilire cos'è meglio il problema è allenarsi con casi studio con situazioni ed è l'esperienza che ti fa diventare importante cioè in questo non esiste quello bravo che sa già tutto ecco perché dico che bisogna un po' sbagliare perché credo che ognuno di noi all'inizio se voi pensate dieci anni fa non eravate come adesso dai non ci credo ti giro le ultime due domande prima di passare ai saluti sì sì ora Massimo Nici ti chiede quando si allena nel calcio femminile la competenza maggiormente richiesta è la coerenza e la comunicazione vincere aiuta a essere capito meglio allora vincere non serve ma aiuta poi se parliamo di femminile Massimo nel femminile bisogna stare attenti perché perché in Italia secondo me c'è stato si è fatto un errore generale si sta forzando tantissimo il calcio femminile che non ha bisogno di aiuti ma ha bisogno di tempo per svilupparsi io ho avuto la fortuna di quando ero all'Inter di interagire perché Beppe Baresi aveva la figlia Regina che giocava a calcio molto bene e soprattutto la moglie che era presidente adesso non so se era l'Inter o una squadra però c'è la squadra femminile che poi nel tempo è diventata l'Inter ecco lì ad Albarella dove andavo mi sono reso conto di che cosa significa interagire con delle ragazze motivate le ragazze per colpa di noi di noi uomini hanno sempre devono sempre fare un lavoro triplo per dimostrare quello che sanno ma l'intelligenza tattica che ho trovato nel femminile sinceramente e la dedizione non è e la maturità non è nemmeno paragonabile con pari livello di maschile adesso non voglio fare le cose da bar ma credetemi che è così dopodiché il femminile ha delle differenze perché dire che sono uguali no perché basterebbe guardare il testosterone basterebbe guardare l'angolo Q basterebbe guardare del bacino basterebbe guardare alcune cose che creano delle differenze sostanziali il testosterone è micidiale cioè fino a una certa età ha lo stesso una ragazza ha lo stesso testosterone vuol dire forza eccetera di un ragazzo dopodiché diventa un terzo un quarto un quinto cioè come lavorare con con un quinto di forza ed è chiaro che il femminile deve sviluppare deve sviluppare il gioco in un'altra maniera quando vedo certe squadre straniere devo essere sincero mi piacerebbe analizzare un po' di più il doping e alcune situazioni perché vedo un'espressione di forza o siamo noi che abbiamo tutte le donne minori ma ecco lì bisogna capire ecco io credo che le donne non devono imitare gli uomini io credo che le donne devono trovare un modo di giocare differente come la differenza fra la spada e il fioretto e a una magari minore intensità motoria potrebbe corrispondere invece ad un'altissima intensità cognitiva e quindi le donne possono giocare in maniera molto veloce ma se cercano di giocare molto veloce sulla corsa ora la vedo dura perché o si affidano a estrogeni o quant'altro anabolizzanti o quant'altro o geneticamente non ce la possono fare se invece il gioco diventa una rete di passaggi e di movimenti senza palla molto rapida come fanno alcune squadre come mi sembra di aver visto in alcune squadre beh allora però questo richiede una tecnica sopraffina una tecnica sopraffina e per lavorare sulla tecnica con i settori giovanili eccetera ci vuole tempo e quindi adesso secondo me stare nel femminile è un problema perché perché le ragazze hanno delle aspettative che un po' sono date dai media si mischia un po' capito e devono capire che penso alla gamma avete presente quando rivendicano i diritti noi dobbiamo prendere anche gli stessi soldi dobbiamo avere gli stessi diritti gli stessi soldi gli stessi trattamenti degli uomini ho capito però attenzione io non posso dire voglio avere lo stesso trattamento i pavarotti poi devi andare a cantare devi andare sul palco e devi avere lo stesso livello per me è questo che i media e la federazione dovrebbero indirizzare cioè appoggiare fortemente il femminile interagire quindi tornando a deve essere maggiore o no la coerenza la comunicazione deve essere deve essere vera però perché 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 non sono le persone non sono stupide se però noi creiamo delle aspettative sbagliate e mi spiace ma io ho la mia amica Bertone mi ha fatto il corso a Coverciano assieme che è bravissima però hanno creato troppa pressione adesso lei deve vincere il mondiale deve vincere no deve fare deve far crescere perché così non favoriamo il femminile li mettiamo in difficoltà perché io non vedo ancora la qualità quando vedo le partite ogni tanto le guardo devono lavorare con calma senza essere sotto i riflettori perché se il problema è già riempire gli stadi fare il business eccetera allora la spettacolarizzazione del calcio femminile porterà alla morte del calcio femminile se invece loro cominceranno a lavorare come tutti gli sport iniziali con grande come hanno iniziato di fatto avevano fatto dei risultati importantissimi all'inizio mi sembra aiutami Alessandro scusate se ho un po' aperto però ho profilizzato visto che si parla di femminile ti giro l'ultima domanda di Costantino Porcellini e poi ti faccio io l'ultima per concludere ora Costantino ti chiede dopo Guardiola e Ancelotti nominati da mister De Paoli pensa che mister De Zerbi elogiato in più occasioni anche da Guardiola può riuscire a raggiungere entrambi non intendo solo per vittorie ottenute ma soprattutto per capacità competenze e innovazioni Allora caro Costantino ti ringrazio per la domanda devo fare una piccola nota familiare ecco De Zerbi se qualcuno di voi lo conosce ve lo può chiedere Roberto è un po' come se fosse il mio fratello il mio fratello adottivo perché il mio babbo quando quando lui era piccolino lo andava ad allenare in un campetto e mi diceva guarda Massimo che c'è un bambino molto bravo perché il papà di Roberto per tanti anni è stato il capo ultras andava in tribuna era un grande tifoso eccetera quindi c'era un rapporto amicizia eccetera e mio papà che non ha fatto le scuole alte ma è stato un grandissimo giocatore e vedeva il talento vedeva il talento lo andava ad allenare in un campetto campetto pubblico poi lui andò al Milan ha fatto una carriera importante perché Roberto è stato anche un ottimo giocatore e e quindi non sono obiettivo perché perché gli voglio bene perché ho questo rapporto un po' particolare con lui lui è un grandissimo allenatore ha una personalità rara vi posso garantire che lui ha rifiutato squadre importanti italiane che adesso potrebbe un po' anche farlo ma l'ha fatto quando non aveva ancora fatto niente e poi magari andava a allenare il Foggia non so se mi spiego è un po' così lui è un po' è un po' radicale e questo è la sua forza però può essere anche la sua debolezza per cui per diventare veramente grande deve riuscire a qualche volta a cambiare idea lo dico citando Guardiola Guardiola un po' di anni fa diceva che l'attaccante più forte quando per dirvi non faceva giocare Ibrahimovic se non voglio entrare nella querelle perché poi ci sono delle interviste di Ibrahimovic spassosissime ma non lo faceva giocare ricordo che Ibrahimovic proveniva dall'Inter dove aveva devastato lui non giocava lì e lui diceva per me l'attaccante più forte è lo spazio libero ok ecco e il fatto di vedere Olan adesso al City e voi capite che al City non si muove niente se non vuole Guardiola quindi se Olan è al City vuol dire che lui ha deciso che serviva un attaccante e lui ha capito che in certe situazioni quello che diceva non era sufficiente questo è il massimo livello di intelligenza che una persona può dimostrare e poi l'altra cosa è che lui è riuscito a migliorare Olan e lui è riuscito a migliorare Olan perché il gol che Olan ha fatto fare contro il Bayern a Bernardo Silva non so se vi ricordate l'azione in cui Mekano per la seconda volta entra in confusione il numero 10 gli ruba la palla lui parte colpo di tacco lui arriva in area il vichingo Olan ha la porta libera Olan è come un cannibale cioè è come uno squalo quando quando vede il sangue non capisce più niente quindi quando vede la porta lui tira lì non tira alza la testa vede il compagno e mette una palla morbida ecco lì c'è tutta la la grandezza di eh la capacità la flessibilità l'intelligenza di Guardiola secondo me Roberto eh anche Guardiola ha attraversato il momento diciamo che sta attraversando Roberto quindi ha dalla sua l'età eh se Guardiola lo 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 continua continua a fare i complimenti è perché Guardiola ha visto quello che sto dicendo io però bisogna vedere se poi lui riesce a fare questo perché lui è molto autoreferenziale e è molto autocentrato è una cosa indispensabile a quei livelli però poi devi la flessibilità che ha Ancelotti non so quello che dicevo prima devi essere un po' quello che ha Zidane per darvi l'idea devi devi saper andare un po' sotto metterti in parte e mandare avanti e mandare avanti gli altri l'ultima cosa Capello è un allenatore è friunano Capello è un allenatore ed è una persona che dire sergente di ferro è poco io mi ricordo alla Roma non so se vi ricordate lui a un certo punto sostituisce Panucci era un difensore buono ha giocato anche nel Milan eccetera Panucci esce scusate la parola lo manda proprio affanculo sapete il labiale proprio e quindi tutti dissero adesso non gioca più Panucci non gioca più la domenica dopo Panucci gioca la Roma quell'anno lì fa molto bene Panucci diventa radiocronista per Sky va a intervistare Capello che allenava il Real Madrid e gli chiede gli chiede scusa pubblicamente gli dice però mister le chiedo scusa ma perché poi mi ha fatto giocare e lui gli disse ti ho fatto giocare perché in quel momento era giusto fare così per l'interesse della Roma e quindi io ho dovuto farti giocare e quando una persona riesce a capire e antepone l'interesse della squadra del club anche quando è attaccato personalmente a parole facili ma credetemi certe volte noi non ci riusciamo nella vita di tutti i giorni quindi lì quando uno ti offende il Vox Populi davanti a tutti quanti i tifosi e tu fai una scelta di quel genere beh Capello che mi è diventato un po' più simpatico diciamo Capello non è un simpaticone però io lo stimo molto anche per queste cose Prima di farti la mia ultima domanda ti faccio qualche saluto partendo da Ernesto Anani Ernesto è un grande amico mi fa piacere che ci sia spero che stia tanto bene Ernesto è un grande passaggio Ernesto sì mister assoluto Gigi Orlandini Fabrizio Giuri Massimo Ricci che saluta Enzo Cupone che saluta tutti gli amici che hanno seguito questa sera Marco Rossi quindi tante ancora domande però siamo a un'ora e un quarto quindi siamo andati con tanto valore questa sera io chiudo sempre le live facendo una domanda te la faccio anche a te questa sera Massimo e ti chiedo un allenatore che inizia oggi ad allenare cosa cosa gli diresti quella cosa che tu ti sentiresti di un allenatore che inizia oggi ad allenare è di avere tanta deve avere tanta tanta resilienza è molto più difficile allenare oggi di quando allenavo io perché perché per quello che dicevo prima è come se avessimo tutti fretta di arrivare a fare qualcosa c'è una frenesia generale quindi l'allenatore oggi soprattutto il giovane allenatore è continuamente messo in discussione è messo in discussione magari da quelli più vecchi che guardano tecnicamente è messo in discussione dai genitori dalle mamme dai papà dai giocatori dai giocatori un tempo un ragazzo non si io quando ero giovane non giuro non ho mai neanche pensato che potesse essere colpa di un docente o di un allenatore mai cioè era me lo ricordo benissimo questo non mai 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 adesso è quasi il primo pensiero e quindi l'allenatore è il capo respiratorio in un romanzo di Malo Sen di Pennacca sono dei romanzi bellissimi uno scrittore francese e c'è questo signor Malo Sen che è il capo respiratorio ecco l'allenatore è il signor Malo Sen dei romanzi di Pennacca quindi gli direi buona fortuna grazie va bene Massimo do ancora l'appuntamento al 23 24 25 giugno adesso alla fine ci sarà la live salvata nel gruppo e anche nelle pagine di formazione in campo dove inseriremo proprio il link per poter consultare il sito per prendere tutte le informazioni e quindi Massimo io ti ringrazio a nome di tutti di tutti i renatori a nome nostro per essere stato con noi questa sera io ringrazio voi tutti gli amici che mi hai citato prima e anche magari chi non conosco perché è sempre un onore poter partecipare a questi incontri quindi ti ringrazio veramente di cuore grazie Alessandro grazie ancora e una buona serata buona serata ciao ciao Massimo grazie